Debutta nel mondo dello spettacolo come autore nel 1978 con la commedia dal titolo Cercarsi. Inizia la carriera di attore nel 1980 interpretando commedie come operazione di Stefano Reali e The Toilet di Leroy Jones, con la collaborazione di Andrea Pazienza. Nell'ambito cinematografico ha interpretato diversi ruoli in film cult di successo come Sapore di Mare e Regia di Carlo Vanzina, Sapore di Mare 2 un anno dopo Regia di Bruno Cortini, Bomber Regia di Michele Lupo con Bud Spencer e Jerry Cala, Grand Hotel Excelsior Regia di Castellano Epipolo, Giochi d'estate Regia di Bruno Cortini, Mezzo destro, Mezzo sinistro Regia di Sergio Martino, si ringrazia la regione Puglia per averci fornito i milanesi Regia di Mariano Laurenti con Massimo Boldi, Teoteocoli, Giorgio Faletti, inoltre telefilme della comicità italiana come Ferragosto o, K, Regia di Sergio Martino, Professione Vacanze Regia di Vittorio Desisti, Colletti Bianchi Regia di Bruno Cortini, Casa Vianello, Cascina Vianello, Cluedo, interpreta anche ruoli in film drammatici come in Non siamo soli Regia di Paolo Poetico Massimo, da Porto, Dominic Sanda, Lina Vert Muller, nel 1985 riceve dal Comune di Roma e dal Ministero dello Spettacolo, il premio L'Oscar dei Giovani, come migliore promessa del cinema e dello spettacolo e debutta come autore nel programma, l'Orecchiocchio condotto da Fabio Fazio e insieme collaborano e scrivono altri programmi andati in onda sulla RAI come i tu 84, Jeans, improvvisando, un disco per l'estate, Chi c'è c'è, collabora con Rodolfo Sonego, Stefano Reali, Salvatore Basile, Carlotta Ercolino, Gino Bramieri in molti spettacoli teatrali e sceneggiature per il cinema e la tv. Dal 2007 è produttore della trasmissione in onda su Italia uno Saturday Night Live from Milano. Attualmente collabora con Claudio Baglioni per il musical Audini e ha scritto Anastasia. Il musical per la produzione Fascino di Roma.